ma buon salve e cazzo ci faccio una pezza di mano se tanto sto video uscirà a pranzo vabbè poi pure vuota però comunque a parte le cazzate se questa è la prima volta che ti trovi in questo canale mi raccomando iscriviti al canale attiva la campanella e lascia like per non perderti altri video di questo genere beh sicuramente ora vi state chiedendo perchè ho fatto questa intro dal c***o e perchè perchè l'ho fatto ok a parte gli scherzi se l'avrete sicuramente già letto dal titolo che oggi parleremo di band che hanno citato sotto i loro video uno in una storia di instagram e l'altro in un video su youtube che attenzione qua siamo alti livelli ebbene si ragazzi diventerò famoso su youtube o diventerò ricco su youtube non lo so riuscirò a fare mille iscritti su youtube entro quest'anno beh ovviamente non lo so però una cosa di cui sono sicuro è che due youtuber appunto mi hanno citato nei loro social il primo è Richard Htt in una storia di instagram che è è questa qua la state vedendo ecco bravi quindi stiamo parlando di uno youtuber che ha stai attenzione lo controllo ora che ha in questo momento la bellezza di 611.000 iscritti che è minghia l'avessi io almeno il suo 1% di iscritti almeno ora cioè dopo 5 anni mentre l'altro youtuber che mi ha citato in un suo video che è niente poco di meno che è lui dei me contro te ebbene si ragazzi i me contro te mi hanno citato in un blog video ovviamente voi non ci credete perché va bene dice da Htt vabbè la storia su instagram ma come fanno i me contro te a citarti in un po' loro video che fanno non so quante visualizzazioni immensi di porca miseria ebbene si ragazzi ho la prova la dovete vedere la dovete vedere ecco via la prova avete visto avete visto lo volete rivedere ecco ma tutto sto discorso per dire cosa beh niente devo solo dirvi che questi due youtuber mi hanno citato quindi sarà un segno che diventerò uno youtuber famoso quest'anno non lo so se volete che questo sia vero mi raccomando iscrivetevi al canale invece vediamo un prossimo video e ciao a tutti ciao 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 ciao